Innanzitutto voglio rinnovare il ringraziamento per la collaborazione bilaterale col Comune di Gabiccia Mare che già era stato intrapreso nell'anno scorso con la sottoscrizione di un accordo di cooperazione in materia di controllo sulla spesa pubblica dei fondi destinati al PNRR. L'accordo di quest'anno invece è rivolto ad altre tipologie di spesa pubblica e anche al controllo sul pagamento corretto dell'imposta di soggiorno prevalentemente un accordo bilaterale relazionato con quei fondi che l'ente locale destina alle categorie più bisognose economicamente e socialmente. Una cooperazione bilaterale, uno scambio di informazioni che ci permetta di individuare eventuali soggetti che indebitamente ottengono queste risorse a svantaggi o alla gallottività proprio perché queste risorse non sono illimitate e quindi noi cooperiamo sinergicamente con l'ente locale in questo caso con il comune, la giunta e il sindaco di Gabicce Mare per uno scambio di informazioni preventivo e speriamo appunto esclusivamente preventivo che qualora invece emerga qualche irregolarità si interverrà prontamente. Si è voluto rafforzare questa collaborazione, questa sinergia fra l'ente locale e la guardia di finanza cercando di evitare, tanto intanto avendo come obiettivo quello di avere un territorio sano quindi un territorio dove sia difficile compiere atti illeciti in questo caso di tipo economico finanziario. Crediamo molto nel lavoro di squadra quindi cerchiamo di trovare tutte le iniziative, le azioni più giuste, mirate proprio per contrastare qualsiasi tipo di fenomeno. L'obiettivo è quello di tutelare la cittadinanza ma quindi anche di tutelare l'ente locale che quando è chiamato a dare risposte ai cittadini in ambito sociale, in ambito scolastico o turistico è chiaro che deve essere in grado di poter impiegare bene le risorse quindi ogni euro sottratto da un furbetto deve essere contrastato questo fenomeno attraverso questa forza e questa collaborazione con un comando importante come quello della Guardia di Finanza che ha tutti gli elementi e le strumentazioni per contrastare questo fenomeno e per dare un supporto importante e fattivo all'attività ordinaria dell'ente pubblico.